bello a tutti ragazzi siamo qui per un nuovo unboxing che non caricherò mai quindi vediamo se riesco ola che cosa sarà mai una bellissima maglietta tra l'altro spero mi vada la taglia perché l'ho presa da aliexpress c'era bisogno di due mani allora eccola qua bellissima spero credo non lo so e semplice con il logino tattico la stampa fa mi fa strano non so se dire se è buono o no però nice